Era un film brillante. Mi sento sicuro, so di potercela fare. È un disegno piuttosto creativo. Avete considerato questa possibilità? Mi sento confusso al momento. Mi hijo è troppo curioso. Era la più veloce di tutti. Dove è l'ingresso? Ho tempo solo fino a domani. Solo tengo tempo hasta la mattina. Ieri stavo camminando nella foresta. Ayer estuve camminando nel bosque. Non preoccupatevi, andrà meglio. Non ti preoccupi, tutto va a migliorare. Non disturbare con me. Non ti molestis conmigo. Avete dei dubbi? Tienes alguna duda? Questo è giusto. Questo è corretto. Otterremo i risultati attesi. Conseguiremo i risultati attesi. Non preoccuparti, posso gestirlo. Descuida, posso gestirlo. Puedo manejar la situazione. Se il tempo è bello, andremo in campeggio. Si il tempo sta bene, iremo al camping. Com'è andata la giornata? Cómo estuvo tu día? È una buona opportunità per me. È una buona opportunità per me. Devo comprare due camicie sportive. Devo comprarmi due camisas deportivas. Chi sta chiamando? Quien sta chiamando? Non arrendetevi e andate avanti con i vostri progetti. Non te rindas si sigue con tus planes. Quando avrò finito, voglio che tu legga questo. Quando termine, voglio che leas questo. Facciamo un passo alla volta. Vamos passo a passo. È importante essere onesti. È importante che seamos sinceri. Dov'era la scorsa settimana? Spegnete il televisore, se non lo usate. Apaga il televisore, se è che non lo stas usando. Dov'è il bagno? Dov'è il bagno? Tutti sono disposti a farlo. Todos están dispuestos a hacerlo. Hai letto tutto quello che ti ho mandato? Leiste tutto lo che ti enviè? Alle sette finisco di lavorare. Alle sette termino di lavorare. Finora tutto bene. Hasta aquí vamos muy bien. Non scherzare. No bromees con eso. Lei è più grande di lui. Ella è più grande che lui. Godetevi il cibo. Disfrutta la comida. Cosa sta succedendo? Se succedendo a los tacchi. Vivo molto vicino a mio lavoro. Vivo molto vicino a mio lavoro. Vivo queppe. Dove sono i taccini? Dove sono i taccini? Tu sai chi ci sarà alla festa? Sabes quién estarà a la festa? Ci conociamo da cinque anni. Nos conosciamo da cinque anni. Di cinque anni? Empecemos de immediato Sei molto intelligente Eres muy intelligente Ci vediamo dopo Luego te veo Questa canzone è molto popolare Esta canzone è molto popolare Un gelato alla vaniglia per me Un elato di vaniglia per me La domenica è il mio giorno libero Il domingo è il mio giorno libero Non capisco questa teoria Buona giornata Che tengas un buon giorno Devo lavare questa camicia Tengo che lavare questa camicia Mi hanno raccontato questa storia Qual è il problema? C'è questa possibilità Existe questa possibilità Mia madre è una donna molto bella Mi madre è una donna molto bella È una giornata di sole Anche questa è stata una coincidenza Tutto questo ha sido una casualità Avete pensato lo stesso? Has estado pensando il mismo? Io e lei abbiamo la stessa età Ella e io tenemos la misma età Tutto è in ordine Tutto è in ordine Sto leggendo i vostri messaggi Sto leggendo i vostri messaggi Mi mancano i miei figli Sto extrañando i miei figli Sto extrañando i miei figli La mia opinione è molto simile alla tua Mi opinione è molto simile alla tua Ieri sono uscito a cena con mia moglie Ayer salì a cenare con mia esposa Quali paesi conoscete? Che paesi conoscete? Mia figlia è una bambina di grande talento Mi hija è una niña molto talentosa Lei è una persona molto professionale Eres una persona molto professionale Domani è il mio compleanno Mañana è il mio compleanno Abbiamo ottenuto questo risultato senza grossi problemi Quanto costa questo computer? Quanto cuesta questo computatore? Questo è il mio momento preferito Questo è il mio momento favorito Questo è ciò che vuole il mio capo Questo è ciò che vuole il mio capo Sono di fretta con questo rapporto Sto appresurato con questo rapporto Andiamo a pescare? Vamos a pescare Nessuno sa cosa sta succedendo Nadie sape lo che sta succedendo L'aggiornamento è stato effettuato? Ya sta la attualizzazione? Passiamo alla fase successiva Avancemos alla siguiente fase Può alzare il volume? Potrei subire il volume? Sono pronto per qualsiasi cosa accada Sto preparato per lo che succeda Io ho avuto un'interpretazione diversa Io ho avuto un'interpretazione diversa Io ho avuto un'interpretazione diversa Mia madre mi ha chiesto di consegnarle questo Dove sarebbe la vostra vacanza da sogno? Oggi è stata una giornata molto produttiva Vi dirò tutta la verità Si tratta di un'area molto familiare Non riesco a credere che stia accadendo Ti piace ballare? Ti piace ballare? Andiamo allo stadio domenica prossima? Questo è il vostro bagaglio Questo è il vostro equipaggio Ho detto qualcosa di sbagliato? Ho detto qualcosa di sbagliato? Sapeva rispondere in modo intelligente Ella supo rispondere con intelligenza Tra poco vi scriverò Così potremo parlare In un momento te scrivo Para che hablemos La polizia è arrivata subito sul posto La polizia arrivò al lugar di immediato La mattinata è stata molto tranquilla La mattina è stata molto tranquilla La mattina è stata molto tranquilla Avete tutti gli ingredienti? Tienes todos los ingredientes? Qual è la sua bevanda alcolica preferita? Qual è la sua bevanda alcolica preferita? Ricordate che questo processo è lento e difficile Non mi piace molto Non ce l'avrei fatta senza di voi Spero che tu riesca a risolvere il problema Possiamo ancora acquistare i biglietti Andiamo a pescare questo fine settimana Mi piacerebbe andare Era un commento di una persona con molta esperienza L'economia del luogo è migliorata molto La economia del luogo ha migliorato molto Siete religiosi? Eres religioso? Ho intenzione di soggiornare in questo hotel Ho fame Nessuno sa che siamo qui Nadie sa che siamo qui Sono entusiasta della serata Siete arrivati al momento giusto Llegas in il momento giusto Le piace la cucina spagnola? Te gusta la comida spagnola? Ho già visto quel film Esa película già la ho visto Sono sicuro che potete farcela Sto sicuro che puoi farcela Vogliamo lavorare insieme? Trabajamos juntos? Qual è la sua bevanda analcolica preferita? Qual è la sua bevanda analcolica preferita? Apprezzo molto i vostri commenti La procedura è molto semplice Il procedimento è molto facile È passato qualcuno oggi pomeriggio? Alguien vino questa tarda? È il tuo telefono? Il suo figlio è molto divertente Tu figlio è molto divertente Pensavo che fosse importante anche per te Pensavo che fosse importante anche per te Penso che dovremmo esaminare la proposta Mi madre si occupa dei bambini Mi madre sta cuidando dei bambini Lei è mia sorella Ella è mia hermana Grazie per avermi aiutato Grazie per aiutare Mi fa male la testa per aver pensato così tanto alla stessa cosa Benvenuti a casa mia Benvenuti a casa Resterò qui tutto il giorno Voy a stare qui tutto il giorno Voy a stare qui tutto il giorno Voy a stare qui tutto il giorno Chi sono? Quienes sono ellos? Mi è piaciuto molto questo viaggio Disfrutté molto in questo viaggio Apprezzo molto la sua opinione Valoro molto la sua opinione È un ottimo collaboratore È un ottimo collaboratore È un gran empleato Ho interpretato tutto in modo diverso Io interpreté tutto in modo diverso Vorrei che venisse con noi Mi piaccia che fossi con noi Fragole o mele Fresas o manzanas Potrei accompagnarla nel suo ufficio Podria accompagnarti a tua oficina Perché no? Perché no? Quanto vi è costato? Quanto ti ha costato questo? È ora di salire sull'aereo È momento di subire all'avion Qual è stata la sua prima opinione? Qual è stata la sua prima opinione? Era una persona molto gentile Era una persona molto amabile Mi piace questa sfida Mi piace questo desafio Mi piacerebbe avere i soldi per comprarlo Mi piacerebbe avere i soldi per comprarlo No, non conosco questo signore Se potessi vivere ovunque Dove sarebbe? Se pudieras vivere in qualche lugar Donde seria? Lo scorso mese di giugno è iniziato tutto In junio del mes passato fu' quando comenzò tutto A che ora siamo arrivati? A che ora llegamos? Dovete pensare a tutte le possibilità Vi auguro un grande viaggio Te deseo un gran viaggio È stato un grande esforzo Fue un gran esforzo Sono molto felice in questa casa È una bella giornata E voglio fare una passeggiata È un giorno molto hermoso E voglio andare a camminare Forse più tardi Quizà più tardi Perché sei qui? Perché sono qui? Qual è la sua squadra sportiva preferita? Qual è il tuo equipaggio sportivo favorito? Avete paura di volare in aereo? Te dà miedo volare in avion? Domani finirò l'intera relazione Mañana terminaré todo il reporte Questa giornata è stata meravigliosa Este dia ha sido meraviglioso Ti piacerebbe lavorare con me? Te gustaría trabajar conmigo? Vi siete pentiti di aver amato qualcuno? Te arrepientes di aver amato a alguien? Ho scelto questa professione fin dall'infanzia Io elegì questa professione Desde mia infanzia La prossima settimana Quali ragioni potrebbe avere? Che razones podría tener él? Siete molto gentili Eres muy amable Perché dovrei saperlo? Perché debería saperlo? Se lo desiderate Potete venire con noi Si deseas Puedes venire con nosotros Quando partiamo? Quando nos vamos? Questo posto mi ricorda la mia infanzia Este lugar me ricorda a mia infanzia Siete sicuri di voi stessi? Eres seguro de ti mismo? Le piacciono i film horror? Te gustan las películas de terror? Cosa ne pensate? Che opina sobre esto? Peccato Pensavo fosse una buona idea Che pena Pensé che era una buona idea Cosa fanno insieme? Che hacen ellos juntos? Approfittate di questa opportunità Aprovecha esta opportunità Avete una fobia? Tienes alguna fobia? Quale sarebbe il lavoro dei suoi sogni? Qual sería il trabajo de tus sueños? Beviamo un bicchiere di vino prima di cena? Destapamos un vino antes de la cena? È un affare È molto conveniente È una oferta È molto barato Possiamo fermarci un attimo? Podemos parar un momento? Quella squadra è una vera perdente Ese equipo è molto mal perdente Qual è la cosa più piccante che avete mai mangiato? Che è lo più piccante che hai comito? Sei andato al concerto di ieri? Fuiste al concerto ayer? Sto aspettando mio padre Sto aspettando mio padre Sto aspettando a mio padre Vuoi che ti aiuti? Chieres che ti aiude? Quale sarebbe il panino dei vostri sogni? Qual sería il sandwich de tus sueños? Ho deciso di sostenervi in questo nuovo piano Ho deciso di sostenervi in questo nuovo piano Ho sonno, sono già stanco Tengo sueño, già estoy cansata Nessuno può vederci qui Nadie può verci qui Questo orologio è per voi Vado a comprare il regalo per stasera Voi a comprare il regalo per stasera Quando verrete nella mia città Vi mostrerò i posti migliori Quando vengas a mi città Te insegnare i migliori lugares Penso che sia molto costoso Considero che sta molto caro Sono sicuro che stanno bene In un futuro molto prossimo Tutto andrà meglio In un futuro molto prossimo Tutto migliorerà Avete imparato qualcosa? Has apprendito qualcosa? È un progresso ordinato È un progresso ordinato Affittare una casa in montagna? Rentamos una casa in la montagna? È incredibile quello che riesce a fare È incredibile lo che ella può fare Vengono sempre qui Siempre vienen qui? Sono davvero felice per voi De verdad me allegro por ti Chi comanda oggi? Chi sta a cargo oggi? Voglio un po' di carne in più Io sì chiedo un po' di carne Gli animali domestici sono molto amichevoli Las mascotas sono molto amichevoli Insisto nel voler andare avanti Io insisto in seguir adelante Mi piace alzarmi presto Mi gusta levantarmi temprano La fedeltà è importante La lealtà è importante È un'azienda in crescita È un'empresa in crescita Tutta la mia famiglia è andata in spiaggia Tutta la mia famiglia è andata in spiaggia È in casa? È un'azienda in spiaggia? Non credo sia vero Non credo sia vero Non credo sia vero Quando avrete preso la vostra decisione Fatemi sapere Quando hayas tomato la decisione Mi informas Mi piacerebbe andare in Romania Mi piacerebbe andare in Romania Mi figlio maggiore è uno studente eccellente Mi figlio maggiore è un eccellente studente Preferisco la qualità alla quantità Io prefiero calidad che cantidad Lei è un buon insegnante Eres una buona maestra Siamo addestrati per questa situazione? Estamos entrenati per questa situazione Questo marchio è più costoso Ma è migliore Questa marca è più costosa Ma è migliore Trovo più bello il verde chiaro Il verde chiaro mi piace più bonito Preferisco la notte al giorno Prefiero la notte che il giorno Era sicuro della sua risposta? Estava sicuro di tua risposta? Credo di aver già visto quest'uomo Vi è piaciuta la nuova decorazione? Te gustò la nuova decorazione? Ogni volta che visito un posto Provo il cibo locale Cada che visito un lugar Pruebo la comida locale Il presidente sta per firmare un accordo di pace Il presidente sta per firmare un accordo di pace Dove sei andato? A donde fuiste? È andato giù facilmente Se cayò facilmente Questo è il tavolo prenotato Se si prosegue dritto si arriva al balcone Si si segue dritto Llegas al balcone Si sente bene? Ella si sta sentendo bene? Mi piace dormire sotto la pioggia Non voglio chiamare questa donna In realtà non chiamare a questa mujer Ho una pessima memoria per ricordare i nomi Tengo mala memoria per ricordare i nomi Quell'attore è molto divertente Ese attore è molto divertente Qual è la stagione migliore dell'anno per lei? Per te qual è la migliore stagione dell'anno? Sono uno studente universitario Sono un studente universitario Chi c'era alla festa? Quienes fueron alla fiesta? Il mio cane è completamente bianco Mi perro è blanco completamente Vi consiglio di acquistare quello viola Io ti aconsejo che compres il di color morato Preferirei una moto? Io preferiria una motocicleta I bambini urlavano troppo? I bambini stavano grittando molto forte? Questi sono i vostri documenti Esti sono i vostri documenti Il dessert alle ciliegie è il migliore Il postre di cereza è il migliore Lavoro solo dal lunedì al venerdì Solo trabajo del lunes a viernes Stava suonando il pianoforte Ella stava tocando il piano Chi c'è qui? Quien sta qui? Ora voglio avere un mio ristorante Ora voglio avere un mio ristorante Ora voglio avere un mio ristorante Si ha rotto la gamba destra Il se fracturò la pierna derecha Oggi andrò a comprare i miei nuovi occhiali Mi madre tornerà l'anno prossimo Mi madre regresarà il prossimo anno Vengono con noi? Estan viniendo con nosotros? Mia figlia è nata in ottobre Mi hija nació in il mes di ottobre La serie ha un finale inaspettato La serie tiene un finale inesperato Oggi mi sono svegliato alle otto del mattino Hoy me desperté a las ocho della mañana Non ti abbiamo visto nell'ultimo anno No te hemos visto en el ultimo anno Vi piacerà Te gustará Vorrei venire con voi in Thailandia I miei cugini vengono giovedì sera Mis primos vendranno il jueves in la nocce Domani andiamo a studiare a casa mia Vamos a studiar in mi casa mañana? Andare più veloce per arrivare in tempo Ve más rápido per poter llegar a tempo Parlerà con il capo oggi? Hablaràs con il jefe oggi? Spero di leggere un libro ogni 15 giorni Espero leerme un libro cada 15 días Alloggiamo nell'hotel centrale Nos allojamos en el hotel central Adoro gli hamburger Las hamburguesas me encantan Questa campagna pubblicitaria ha avuto molto successo Questa campagna pubblicitaria è molto esitosa Cosa stai comprando? Che stai comprando? Guardiamo insieme il film Il museo si trova a 100 metri da qui Il museo sta a 100 metri da qui Premere il pulsante di reset Aprieta il botone di reiniciare Sarete pronti in tempo? Estaranno listi a tempo? Mi piace andare in vacanza sulle spiagge della Colombia Mi piace andare in vacanza sulle spiagge della colombia Mi cugino ha 25 anni Mi primo tiene 25 anni È un mio compagno di università Mi piace molto la letteratura La letteratura mi gusta molto La lampadina deve essere cambiata La bombilla necessita ser cambiata Cosa farete domani? Che vas a ser mañana? Mi piacerebbe portarti in un bel ristorante Me gustaría llevarte a un bonito restaurante Ho invitato solo 5 amici Io invité solo 5 amigos Avete mai lavorato insieme? Han trabajado juntos alguna vez? I documenti sono già stati firmati Los documentos ya fueron firmados Faccio una doccia y ti chiamo Me tomo una ducha y te llamo Vi ho già raccontato questa historia Te he contado esta historia antes? Hai intenzione di preparare una torta di mele? Vas a cocinare un pastel de manzana? La mia famiglia è la mia ispirazione Mi famiglia è mia ispirazione Non sono ancora pronto a trasferirmi in un'altra città Todavía non sono pronta per cambiare la città Dove è il gruppo? Donde sta il gruppo? Ho bisogno di studiare per guadagnare di più Necesito studiare per guadagnare di più È ora di andare a dormire È ora di andare a dormire Il cielo è molto oscuro È meglio restare a casa Il cielo è molto oscuro È meglio restare a casa Dove lavora? Donde trabajas? Voglio un biscotto e dell'acqua Io quiero una galletta e agua Penso che andrò a una festa stasera Credo che questa nocci irei a una fiesta Mi piace il tuo modo di pensare Mi piace come piensas Con questo nuovo contenuto imparerò di più Con questo nuovo contenuto apprenderò di più Le condizioni sono molto difficili Las condizioni sono molto difficili Ho bisogno di praticare il mio francese Necessito praticare il mio francese La festa è oggi o domani La festa è oggi o domani Tutto questo è stato molto positivo per mio padre Tutto questo è stato molto positivo per mio padre Ho tempo a disposizione Io ho tempo disponibile Stasera sarò molto impegnato Questa nocci sarò molto preoccupato Andiamo la prossima settimana Siete qui per lavorare o studiare? Estai qui per lavorare o studiare Questa è una mostra mondiale Este è un espectacolo mondiale Come è potuto accadere? Come è possibile che haya succedito questo? Voglio rimodernare tutto nella mia stanza Quiero rimodellare tutto in mia abitazione Siamo qui per sostenerci e aiutarci a vicenda Estamos per appogliare e aiutare Quale colore preferite? Rosso o rosa? Che color prefieres? Rojo o rosato? Non voglio più vivere come prima Non voglio vivere come prima Non voglio vivere lo stesso che antes Proprio in questo momento stavo pensando a te Justo in questo momento stavo pensando a te Voglio che lo vediate più chiaramente Quiero che lo veas con más clarità Questo è un gioco emozionante Este è un gioco emozionante Pensavo che tu sapessi Pensé che tu sabias Devo andare, è tardi Me tengo che ir, se me hace tarde Molti turisti vengono qui Dove c'è un distributore di benzina? Dove hai una gasolinera? Vuoi mangiare qualcosa? Chieres algo de comer? Fa freddo di notte Hace frio en la noche Questo posto è affascinante Questo posto è affascinante Che tipo di musica è questa? Che tipo di musica è questa? Sta piovendo intorno a casa vostra? Por tu casa sta llovendo? Non è la prima volta che succede Non è la prima volta che succede Ieri ho dormito abbastanza bene Ayer dormì bastante bene Inizia a piovere Sta empezando a llover Non sono d'accordo con questa decisione Io non sto di accordo con questa decisione Come posso aiutarvi? Come te puedo aiutar? Ho buone notizie per voi Tengo buone notizie per voi Possiamo salvare molti animali Podemos salvare a molti animali Ho amato il film Mi encantò la pelicula Voglio andare in montagna per tre notti Quiero andare in montagna per tre notti Tutto sommato, è stata una buona giornata In generale, ha sido un buon dia I miei cugini ti stavano cercando ieri Mis primos te stavano buscando ayer Grazie per il vostro sostegno 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 Sto studiando qui Sto studiando qui Voglio andare in quella città Il mio vicino ha fatto molti rumori ieri. Chiamatemi quando siete pronti. Attualmente sono alla ricerca di un lavoro. Cosa ci guadagna? Facciamo il check-in. Vamo a registrarnos. Posso chiamarti più tardi? Te puedo llamar más tarde? Qual è il nome di questa università? Qual è il nome di questa università? Posso giocare di nuovo? Puedo jugar di nuovo? Mandami un messaggio quando sei libero. Enviami un messaggio quando sei libero. Avete sentito la notizia? La mia insegnante è molto gentile. Mi ha spiegato di nuovo. Mi professora è molto amabile. Mi ha spiegato di nuovo. Quali sono i suoi progetti per il futuro? Quali sono i tuoi plani per il futuro? C'è molto traffico di notte. Hai molto traffico in la notte. Come hai imparato una nuova lingua? Come hai imparato una nuova lingua? Buona fortuna per questo nuovo progetto. Buona suerte in questo nuovo progetto. Qual è la sua data di nascita? Qual è la tua fecha di nascimento? Mi piace ascoltare la musica al mattino. Mi gusta escuchar musica in las mañanas. Sono stanco di camminare. Sto cansata di camminare. No, questo non è per voi. No, questo non è per voi. È un piacere aiutare la mia mamma. È un piacere aiutare la mia mamma. Informateci sul nuovo progetto. Por favor informanos acerca del nuovo progetto. Grazie per l'offerta. Grazie per l'offerta. Vi racconto cosa è successo. Te voy a contar lo che pasó. Credo di aver fatto cadere qualcosa. Credo che se mi cayò algo. Cosa farete dopo? Che vas a hacer después? Tutti si sentono uguali. Todos sienten lo mismo. Sono sicuro che sarà la cosa migliore per tutti. Sto sicuro che sarà lo migliore per tutti. Ieri ero con i miei amici. Ayer estuve con mis amici. Siamo nello stesso fuso orario. Estamos en la misma zona oraria. Sei a casa? Ho bisogno di chiamarti. Estas en casa? Necesito llamarti. Gli asiatici sono molto educati. Los asiaticos son muy educados. Vuoi bere qualcosa? Cosa? Chieres tomar algo? Ho bisogno che sia estate ora. Necesito che sia verano già. L'estate è stata molto divertente. Il verano ha sido muy divertido. Cosa le piace fare nel tempo libero? Che te gusta hacer en tu tempo libre? Dobbiamo andare stasera. Tenemos que ir esta noche. Questo non è il posto giusto. Este no es el lugar adecuado. Mia sorella ieri piangeva. Mi hermana stava llorando ayer. Benvenuti in questo ufficio. Bienvenido a esta oficina. Il dibattito presidenziale è molto interessante. Il debate presidenziale sta muy interessante. Ogni giorno c'è un pasto nuovo. Hai una nuova comida cada dia. Non ci ha permesso andare lì. No estamos autorizados a ir allì. Sono confuso da queste istruzioni. Estoy confundido con estas istruzioni. Domani andrò a casa dei miei genitori. Mañana voy a la casa de mis padres. Un bicchiere di vino e del formaggio. Una copa di vino e algo di queso. Avete fatto un buon lavoro? Has hecho un buon trabajo? La poesia è una cosa che ispira. La poesia è algo inspirador. Riesci a crederci? Lo puedes creer? Mi piacerebbe avere una mia azienda, un giorno. Me gustaría tener mi propria impresa algún día. Che giorno è oggi? Che dia è oggi? Devo fare un salto al supermercato per comprare qualcosa. Devo passar por el supermercado y comprar algo. Includiamo i miei amici in questo viaggio? Incluyamos a mis amigos en este viaje. No, no, no la contro di lui, solo che non mi piace. No tengo nada contra de él, simplemente no me gusta. Mi piace guardare le mie piante crescere. Me gusta ver crecer mis plantas. Vieni a cena con me. Ven conmigo a la cena. Ognuno sceglie il proprio futuro. Cada quien elige su propio futuro. Voglio conoscere i vostri fratelli. Quiero conoscere a tus hermanos. Ricorda quello che mi hai detto ieri. Ricorda lo che mi dijiste ayer. Mi piacerebbe prendere un caffè in Colombia. Me encantaría tomarme un caffè in Colombia. Dicono che l'amore è cieco. Dicen che l'amore è ciego. Non ho soldi, ma voglio andarci lo stesso. No tengo dinero, però aún quiero ir. Mi allontanerò da questo quartiere. Voy a mudarme lejos de este barrio. Avete un ombrello da prestarmi? Tienes un paraguas para prestarmi? Le uova sono buone per la colazione. Los huevos son ricos para il desayuno. Amo la poesia classica. Me encanta la poesia classica. Ho già deciso. Sei molto bella oggi. Oggi luces muy hermosa. Questa donna ha un sacco di soldi. Esta mujer tiene mucho dinero. Ricordatevi di passare a comprare la mia frutta. Recuerda pasar a comprar mis frutas. Mi fa male la gamba sinistra. La pierna izquierda me duele. È un insegnante della scuola dei miei figli. Ella è professora in il colegio di miei figli. La vista dalla terrazza è piacevole. La vista desde la terrazza è piacevole. Mi piace bere birra con gli amici. Continuiamo ad argomentare questo testo. Mi mancano i miei genitori. Esti pantaloni sono troppo stretti. Este pantalone mi queda apretato. Avete visto l'ultimo film di questo attore? Viste la ultima película di questo attore? Questa è una città molto turistica. Esta è una città molto turistica. Mi piace essere una persona generosa. Mi piace essere una persona generosa. Sono sicura di potervi aiutare. Estoy segura di potervi aiutarti. Preferisco vivere in un luogo freddo. Prefiero vivere in un luogo frio. Com'è la città in cui è nato? Com'è la città in cui è nato? In quindici minuti arriveremo a destinazione. In quince minuti arriveremo a nostro destino. I miei amici mi fanno ridere molto. Mis amici mi facono ridere molto. Mio figlio inizia a parlare. Mi hijo sta cominciando a parlare. Cosa le ha detto il medico? Il livello di questo evento è stato molto alto. Il livello di questo evento ha sido molto alto. A che ora inizia la partita? A che ora si inizia il partito? Fortunatamente conto su di voi. Affortunatamente conto contigo. Cosa spera per il suo futuro? Che speras per il tuo futuro? Vi auguro un buon viaggio. Te deseo un viaggio molto bonito per te. L'incidente è stato molto scioccante. Il accidente fu molto impattante. Un hamburger con doppia carne. Una hamburghesa con doble carne. È una questione importante. Ne parleremo più avanti. È un tema importante. È stata una giornata complicata per me. Ha sido un dia complicato per me. Quali sono le piante che dobbiamo potare? Quali sono le piante che dobbiamo potare? Mi congratulo con voi. Me lo avete detto ieri. Te felicito. Tu me lo dijiste desde ayer. Cosa state aspettando? Che stas esperando? Anche mia figlia vuole studiare lo stesso. Mi hija tambien quiere studiar lo mismo. Penso ancora a mio padre. Todavia sigo pensando en mi padre. Alcune lingue sono facili per me. Algunos idiomas son facili per me. Non posso perdermi il primo capitolo. No puedo perdermi il primer capitolo. All'interno dell'immagine c'è un triangolo. Dentro del quadro hai un triangolo. Il piatto che sto preparando è italiano. Il plato che sto preparando è italiano. Parli molto bene il portoghese. Hablas muy bien il portugese. Sto solo chiedendo ciò che mi spetta di diritto. Io solo sto exigendo lo che mi corrisponde. Il ragazzo di mia cugina è irlandese. Il novio di mia prima è irlandese. Voglio che il mio ufficio sia rivolto verso il mare. Quiero mi oficina frente al mare. Mi piacerebbe camminare nel bosco. Quisiera camminare nel bosque. È una studentessa di programmazione web. Ella è un studio programmazione web. Quale città mi consiglierebbe di visitare? Che città mi recomiendas visitare? A quel tempo non c'era elettricità. In aquella epoca, non esistia la elettricità. Se tu vai alla festa, ci vado anch'io. Si tu vas alla fiesta, io tambien voy. Dipendiamo dalle vostre capacità. Dependemos de tus capacidades. Preferisco continuare a viaggiare con la mia famiglia. Prefiero seguir viajando con la mia famiglia. Il bambino ha solo un mese di vita. Il bebe solo tiene un mese nascito. Sono venuto per vincere. Vine para ganare. Oggi ho una riunione molto importante. Hoy tengo una riunione molto importante. Quanti paesi del Sudamérica conoscete? Quantos paesi del Sudamérica conoces? Il ruolo di mia madre è stato molto importante. Il ruolo di mia madre è stato molto importante. Stasera si bebe birra. Vamos a tomar cerveza esta noche? Viaggiate a gennaio o febbraio. Viajas en enero o febrero. Avete risposto a tutte le domande? Resolviste todas le domande? Mi fido di voi. So che siete in grado di vincere. Confio en ti. Sé che eres capaz de ganare. Evitiamo di camminare vicino alla foresta. Evitiamo di camminare cerca al bosque. Sei sempre stato un grande amico. Siempre hai sido un gran amico. Cosa fai stasera? Che harás esta noche? Voglio trasferirmi più a nord. Quiero mudarme más al norte. Oggi parlerò con il mio capo. Hoy hablaré con mi jefe. L'intero luogo è controllato dalla polizia. Todo il lugar sta controllato dalla polizia. È uno sconto del 25%? Questo tiene il 25% di descuento? L'ufficio è vicino a casa mia. La oficina è cerca di mi casa. È una cena molto elegante. È una cena muy elegante. Venire qui è stata una buona scelta. Venire qui ha sido un acierto. Avete delle superstizioni? Tienes alguna superstición? I prezzi sono aumentati molto. Los prezios han aumentado muchísimo. I vostri commenti hanno avuto un grande impatto. Tus comentarios han tenido mucha repercusión. Tutte le cose buone verranno a voi. Todo lo bueno te llegará. Devo iniziare a mangiare più frutta. Devo comenzar a comer más frutas. Apprezzo la vostra comprensione. Agradezco tu comprensión. Ho bisogno di una pausa. Sono stanco. Necesito una pausa. Estoy cansada. Credo di avere la soluzione giusta. Creo tener la soluzione correcta. Questo fine settimana ci accamperemo sul lago. Accamparemos este fin di settimana junto al lago. Posso aiutarti con qualcosa? Puedo aiutarti con algo? Amo la musica che stai ascoltando. Me encanta la musica che stai ascoltando. A che ora inizia la lezione? A che ora comienza la classe? Questo è molto divertente. Questo è molto divertido. Devo migliorare la mia tecnica di studio. Tengo che migliorare la mia tecnica di studio. Oggi mi sento più motivato. Me siento más motivato el día de hoy. La musica classica mi aiuta a concentrarmi meglio. La musica classica me ayuda a concentrarmi mejor. Puoi ripetere quello che hai detto? Puedes ripetir lo che dijiste? Ho già provato tutti i piatti di questo ristorante. Ya he provato todos los platos en este restaurante. Non mi piace il cibo piccante. Non mi gusta la comida piccante. Ciao, buona giornata. Adios, che tengas un buon dia. Non mi piace parlare di politica. Non mi gusta parlare di politica. Ho scelto molto bene la mia carriera universitaria. Elegi molto bene la mia carriera universitaria. Vuoi vedere un film questa sera? Vuoi vedere una film questa sera? Viajare aiuta a conoscere nuove culture e persone. Viajare aiuta a conoscere nuove culture e persone. Posso aiutarti a portarlo? Puedo aiutarti a portarlo? Passeggiare per la campagna è molto bello. Caminar por il campo è molto agrava. Mi piace molto la tua casa. Me gusta molto tua casa. Cosa hai combinato ultimamente? Che hai stato facendo ultimamente? Che buon gusto hai nella decorazione. Che buon gusto tienes en la decorazione. Adoro il modo in cui cucini. Me encanta la maniera in che cocinas. Mi dispiace, non posso aiutarti in questo momento. Lo siento, non posso aiutarti in questo momento. Posso farti una domanda personale? Puedo hacerte una domanda personale? Guarda che bel tramonto. Mira ese hermoso atardecer. Vorrei parlarti di una cosa importante. Buongiorno, come hai dormito? Buongiorno, come hai dormito? Volete prendere un caffè insieme? Chieres tomar un caffè juntos? Ti piacerebbe andare ad un evento culturale? Mi piace molto correre al parco la mattina. Mi gusta molto correre nel parco per le mani. L'onestà è un valore fondamentale in ogni relazione. La onestità è un valore fondamentale in ogni relazione. Sono preoccupato per il mio voto in questo corso. Sto preoccupato per la mia calificazione in questo corso. Vuoi andare al cinema il weekend? Vuoi andare al cinema il fin di settimana? Questa è una benedizione. Questo è una benedizione. Posso chiederti un favore personale? Puedo pedirte un favore personal? Ho molto da studiare per l'esame. Tengo molto che studiare per l'examen. Mi piace molto il tuo atteggiamento positivo. Me gusta molto tua attitud positiva. Vuoi venire a una partita di calcio con me? Vuoi andare a una partita di calcio con me? Vuoi andare al mare nel weekend? Vuoi andare a una partita di calcio il fin di settimana? Non sono sicuro di cosa ne pensi. Non sono sicuro di cosa ne pensi. Non sono sicuro di cosa ne pensi. L'arte è una preziosa forma di espressione. L'arte è una forma di espressione molto valiosa. Mi puoi dare un consiglio? Puedes darmi un consiglio? Sono preoccupato per il costo delle tasse universitarie. Me preoccupa il costo della matrícula universitaria. Vuoi fare una passeggiata nel parco? Vuoi andare a camminare per il parco? Che programmi ha per oggi? Che plani hai per oggi? Ti piacerebbe fare una passeggiata? Ti piacerebbe fare una passeggiata? Ti piacerebbe fare una passeggiata? Mi piace molto lo stile delle tue scarpe. Adoro il cibo che hai preparato ieri sera. Mi encanta la comida che hai fatto l'anno scorso. Vuoi fare shopping con me? Ti piacerebbe andare a comprare con me? Adoro il tuo nuovo taglio di capelli. Mi piace il tuo nuovo corte di capelli. Sei una persona molto coraggiosa. Eres una persona molto valiente. Mi piacciono molto le tue abilità linguistiche. Mi piace molto la tua abilità per i idiomi. Possiamo parlare di più di questo argomento? Potremmo parlare di più di questo argomento? Vuoi che ti accompagni? Ti piacerebbe che ti accompagni? Adoro il profumo che indossi. Mi piace il profumo che stai usando. Vi va di provare questo dolce che ho preparato? Ti piacerebbe provare questo postre che preparai? Scusa, ho altri piani per oggi. Lo sento, ho altri plani per oggi. Hai visto questo programma televisivo? È importante prendersi cura dell'ambiente per proteggere il nostro pianeta. È importante cuidare il medio ambiente per proteggere il nostro pianeta. Com'è stato il tuo viaggio? Com'è stato il tuo viaggio? La comunicazione è essenziale. La comunicazione è essenziale. Che ne dite se prepariamo una cena a casa? Che te pare se facciamo una cena in casa? Ne parleremo più tardi. Màs tardi parleremo sobre questo. Lascialo lì. Deja eso lì. Oggi è stata una lezione interessante. Sto lavorando alla mia crescita personale e professionale. Sto lavorando alla mia crescita personale e professionale. La libertà è un diritto fondamentale. La libertà è un diritto fondamentale. Congratulazioni per la tua promozione. Ci sono i compiti per domani? Hai tarea per domani? Possiamo incontrarci per parlarne domani? Podemos riunirnos per parlare di questo domani? Hai molta immaginazione. Tienes mucha immaginazione. Sei molto creativo. Eres molto creativa. Vuoi andare a bere qualcosa? Vuoi andare a bere qualcosa? Vuoi andare a bere una coppa? Spero di raggiungere i miei obiettivi a lungo termine. Spero di raggiungere i miei obiettivi a lungo termine. Spero di raggiungere i miei obiettivi a lungo termine. È meraviglioso quello che stai facendo. È una meraviglia lo che stai facendo. Questo è molto interessante. Devo prendere più appunti. Questo argomento è più facile di quanto pensassi. Questa materia è più facile di quello che pensai. Non capisco cosa dice l'insegnante. Non capisco cosa dice l'insegnante. Non capisco cosa dice l'insegnante. Mi sento sopraffatto dal carico di lavoro. Me sento abrumata per la carica di lavoro. L'amore è un sentimento molto prezioso nella vita. Il amore è un sentimento molto valioso nella vita. Ho bisogno di prendermi una pausa dal tanto studio. Necesito tomar un descanso del tanto studio. Com'era il tuo esame? Com'era il tuo esame? Puoi darmi la tua opinione su questo argomento? Puoi darmi la tua opinione su questo argomento? Non capisco bene questo argomento. Non entiendo molto bene questo argomento. Posso vedere la tua galleria d'arte? Può vedere la tua galleria d'arte? È pazzesco, ma è vero. È una locura, ma è vero. Non posso venire a lezione domani. Non posso asistire alla classe di mattina. I nervi stanno prendendo il sopravvento su di me. I nervi stanno prendendo il sopravvento su di me. I nervi stanno prendendo il sopravvento su di me. Posso chiederti un favore? Puedo pedirte un favore? Mi piace molto il gusto del cioccolato. Vuoi venire ad un concerto di musica classica con me? Vuoi andare ad un concerto di musica classica con me? È pazzesco vederlo di nuovo. È una locura ver questo di nuovo. Non lo so per certo. Non lo so con certeza. Non ho idea di cosa ci sarà dopo. Non ho idea di cosa ci sarà dopo. Cosa ne pensi di questo? Che opinas sobre questo? Sono molto contento dei progressi. Sto molto contento per l'avanzo. Sono contento che tu sia qui. Me alegra che stessi qui. Dove vorresti andare a cena? Donde ti gustaría ir a cenare? Vuoi incontrarci dopo le lezioni? Il sole splende luminoso in questa bella giornata. Il sole brilla con intensità in questo hermoso giorno. Questo è un regalo per voi. Questo è un regalo per voi. E' stato un viaggio molto stimolante. Fui un viaggio molto inspiratore. Mi piace alzarmi presto. Me gusta levantarme temprano. Lei è nato in questa città. Tu naciste in questa città? Oggi è stata una giornata molto speciale. Oggi è stata una giornata molto speciale. È una giornata molto fredda. È un giorno molto fredda. Dove erai ieri? Donde stavate a ieri? Sono andato in panico quando l'aereo ha iniziato a volare. Mi asusté quando l'avione empezzò a volare. Ha reagito rapidamente. Ella reaccionò rapidamente. È un'edizione limitata. È un'edizione limitata. Non esiste una base specifica. No hai un fondamento specifico. Apri la finestra, per favore. Abre la ventana, per favore. Ecco la tua insalata. Aquí está tu insalata. Mi manchi. Te extraño. Sono sempre ben informati. Ellos siempre están bien informados. È stata creata una nuova divisione. Se ha creato una nuova divisione. Ti piace la filosofia? Te gusta la filosofia? Ho bisogno del vostro aiuto. Necesito de tu ayuda. Questa deve essere una bugia. Esto debe ser mentira. Si sentivano molto a disagio. Se sentían muy incomodos. Si è espressa correttamente. Ella se expresó correttamente. Questo piatto è delizioso. Este plato è delizioso. Ti è piaciuto il film? Te gustò la película? Sono stato scelto per lavorare lì. Me han elegido para trabajar allí. Continuano a parlare. Ellas continuan hablando. Sai giocare a poker? Quanto costa questo cappello? Quanto cuesta este sombrero? Sono d'accordo con loro. Estoy d'accordo con ellos. Indovina il risultato. Adivina il risultato. Gli oggetti si sono smarriti. Los objetos se han extraviato. Devo portare i cani a fare una passeggiata. Devo sacar a passear el perro. La scorsa settimana siamo stati dai miei genitori. La semana passada estuvimos donde mis padres. Issi vivendo anche il japonese? Stai imparando anche il japonese? Stai imparando anche il japonese? Estas aprendiendo japonese tan bene? La stagione ha avuto molto successo. La temporada fu super successo. I vicini facevano molto rumore Le porte erano chiuse Buona fortuna per stasera Buona suerte per questa noche Mi piace il tuo acento Non pagare più di 5 euro per questo Sono contento per la tua buona decisione È una proposta ufficiale È una storia incredibile È una storia assombrosa Buon Natale Feliz Navidad È una buona possibilità È una buona possibilità Tra 5 minuti ti aiuterò In 5 minuti ti aiutare Puoi contare su di me Puedes contar conmigo Ho fame Tengo hambre Come l'hai imparato? Cómo aprendiste eso? Mio padre può aiutarti Mi padre puede aiutarti Aveva la febbre Ella hambre Dopo di che abbiamo lasciato il posto Dopo di che abbiamo lasciato il posto Después di questo Nos fuimos del lugar La gelateria è stata chiusa La helateria è stata chiusa La helateria è stata chiusa Voglio un dessert Quiero un postre Non mi piace l'atteggiamento Dei tuoi amici Non mi piace l'attitud Avevo la faccia rossa Per il caldo Io tenia la cara Enrojecida Por il calor È un ottimo venditore È un gran venditore I tuoi genitori sono già arrivati in Francia Tus padres già llegaron a Francia? Ti chiamo Giovedì Te llamaré il jueves Sono felice di conoscerti Estoy felice di conoscerti Gli insegnanti sorrisero Los maestros se sonrieron La stanza era piena La habitazione stava llena Dopo cena Abbiamo ordinato un dessert Después di cenare Pedimos un postre Tu parli francese? Hablas francés? Sto prendendo decisioni importanti Estoy tomando decisiones importantes Tutti aspettavano fuori dal locale Todos esperaron fuori dal lugar Che cosa è successo? Che ha sucedido? Forse più tardi Quizás más tarde Hai già finito di mangiare? Ya terminaste de comer? Il ragazzo tremava di freddo Il niño estaba temblando de frio È un punto elementare del progetto È un punto elementare nel progetto Sono scappati tutti Todos salieron corriendo Preferisco riposare stanotte Prefiero descansare questa notte Domenica eravamo nel bosco Il domingo stavamo nel bosco Voglio un pesce per pranzo Quiero un pescado per l'almurso Non voglio che tu lo faccia Non voglio che lo faccia L'anno precedente ha avuto molto successo Il anno anterior fuori di molto éxito Che ora è? Che ora è? Vorrei fare una passeggiata Chisiera dar un passeo Una guida mi ha aiutato a trasportarmi Un guia mi aiutò a trasportarmi È una conversazione interessante È una conversazione interessante Ho trovato solo questo colore Incontré solo este color Siete pronti? Ya estás lista? Quelle spiagge sono incredibili Esas playas sono incredibili Questo deve essere uno scherzo Questo deve essere una broma Ha detto che avrebbe ripulito tutto El dijo che limpiaria esto Questa è la versione originale Non preoccuparti No te preoccupes Consigliami un buon ristorante Recomiéndame un buon ristorante Ne parlerò con mia madre Hablaré con mi mamma al rispetto La tua famiglia è molto numerosa Tu famiglia è molto numerosa Ho già visitato due librerie Un amico mi ha regalato questo orologio Un amico mi regalò questo orologio Un amico mi regalò questo orologio Quanto è lontano da qui? Che tan lejos è da qui? L'hanno tenuto segreto Ellos lo mantuvieron in secreto Le scatole erano piene Las cajas estaban llenas Se alzarono e se ne andarono Ellos se pusieron de pie Y se marcharon Hai fatto un ottimo lavoro Il libro è sul mio comodino Il libro sta in mi mesita di noce Mi hai promesso Tu me lo prometiste È un grande narratore di storie È un gran narratore di storie È un grande orgoglio per me È un gran orgoglio per me Cosa stai facendo? Che stas facendo? Non posso andare adesso En este momento no puedo ir Ci siamo andati in vacanza Fuimos allá de vacaciones Rallentare Ven más despacio Mi fa male la spalla sinistra Mi sta dolendo mi ombro izquierdo Quanto costa questo vestito? Quanto cuesta este vestito? È una storia molto commovente È un relato molto commovente Andiamo a farci qualche birra? Vamos a tomarnos unas cervezas? Sto meditando ogni giorno Vai avanti con i tuoi piani Sigue adelante con tus planes Ti chiamo domattina Te llamaré en la mañana Tu parli tedesco? Hablas alemán? Mi fido molto di te Io confio molto in ti Per favore siediti Siéntate por favor Ora capisco tutto Ora entiendo tutto Fa molto caldo Hace mucho calor Sono andato al supermercato E ho comprato questo Fui al supermercato Y compré esto Lascia che ti aiuti Déjame aiutarti Ti piace viaggiare in barca? Te gusta viajar in barco? Hai chiamato la banca? Llamaste al banco? Vivo in Argentina Io vivo in Argentina Ti scrivo domani Mañana te scrivo Devo lavare i miei vestiti Tengo che lavar mi ropa Ti piace il basket? Te gusta il baloncesto? Sono un principiante Fa molto freddo Hace mucho frio Hai preso la tua medicina? Tomaste tu medicina? Non capisco No te entiendo Mio figlio sta imparando il giapponese Mi hijo sta aprendiendo japonese È un posto molto vicino È un prodotto molto economico È un prodotto molto barato Non importa cosa dicono gli altri Non importa lo che digan i altri Voglio andare a nuotare Quiero andare a nabare Perché lo hai fatto? Hai un bel aspetto? Te ves muy bien Com'è stato il tuo fine settimana? Com'è stato il tuo fine settimana? Ti mostro la mia macchina nuova Te insegnaré mi nuovo auto Oggi è una giornata molto fredda Ecco le tue magliette Vuoi provare questo piatto? Mia figlia è venuta a trovarmi Che genere musicale ascolti? Ho ancora molto da fare Mi fa male la gola Oggi lavoro da casa La società sta andando molto bene La empresa va molto bene Stai studiando inglese? Estas studiando inglese? Ieri abbiamo preparato un dolce Ayer preparamos un postre Ho bisogno di un dottore Necesito un dottore Mi potete aiutare? Me puedes aiutar Vieni stasera? I prigionieri sono scappati Sono un insegnante Si tenevano per mano Come sta la tua famiglia? Oggi non pioverà Oggi non va a llover Sembra il mio vecchio lavoro Se parece a mi antiguo trabajo È un'opinione ragionevole È un'opinione razonabile Eravamo preoccupati per te Estábamos preoccupados por ti Verrai presto domani? Mañana vendrás temprano? Voglio chiedervi qualcosa Quiero preguntarti algo Cosa vuoi fare? Che vuoi fare? Ha rotto il vaso El rompio il jarron Mi ha dato le sue ragioni Ella mi dio sus razones Cosa stai studiando? Che estas studiando? C'è una mela in frigo Hay una manzana en la nevera In questo posto ho imparato molto En este lugar he aprendido mucho Lei ha risposto molto gentilmente Ella rispondió muy amablemente Conoscevi già mio padre? ¿Ya conocías a mi padre? La sera andrò al cinema En la noche voy a ir al cine Hai scoperto cosa è successo? ¿Te has enterado de lo sucedido? È un giorno molto speciale per lei Es un día muy especial para ella Hai spuntato la casella? Revisaste la caja? Voglio cambiare il colore dei miei capelli Quiero cambiarme il colore de mi cabello Cosa vuoi mangiare? Che quieres comer? Parla inglese? Hablas ingles? Tutto andrà bene Tutto andrà bene Todo va a salir muy bien È una grande notizia per noi È una gran notizia per noi Questo è stato un grande aiuto per tutti Questo pomeriggio andrò a comprare le scarpe Questa tarde irei a comprare los zapatos Cosa hai fatto oggi? Che hiciste hoy? Ho buone referenze su di lei Io tengo buone referenze su di lei È importante per te Questo è importante per ti? È solo il mio pensiero È solo un pensamento proprio Qual è il tuo numero di telefono? Qual è il tuo numero di telefono? Hai ricevuto il messaggio? Entendiste il messaggio? Oggi fa molto caldo Oggi fa molto caldo Cosa mi consigliate di mangiare? Che mi recomiendas comer? È un prodotto molto funzionale È un prodotto molto funzionale Sono qui dalle 9 del mattino Estoy qui desde las 9 della mattina Quanti fratelli hai? Quanti fratelli hai? Fare la cosa giusta Hazlo corretto Questo non è un problema per me Questo non è un problema per me Vorrei comprare questa casa Me gustaría comprare questa casa Cosa stai pensando? Che stas pensando? Voglio cambiare casa Questo è il miglior club della città Questo è il miglior club della città Questo è il miglior club della città Has apprendito qualcosa? Se vuoi posso passare a prenderti? Si vuoi posso passare a prenderti? Si vuoi posso passare a prenderti? Stai aspettando qualcuno? Stai aspettando a qualcuno? Sono tornato a casa di notte Volvì a casa in la noche Io e lei abbiamo studiato insieme all'università Grazie per avermi ascoltato Grazie per ascoltarmi Avete del caffè? Tienes caffè? È un'esigenza generale È una necessità generale Era ora di iniziare Mi piace questa macchina Mi piace questa macchina Me gusta questa macchina Quella città è lontana da qui Questa città è lontana da qui Parto domani Mi fai la mattina L'ascensore non funziona L'ascensore non sta funzionando Dove hai messo il quadro? Donde posiste il quadro? Consideriamo tutti i punti di vista Consideremo tutti i punti di vista Voglio viaggiare in Brasile Quanti abitanti ci sono in questa città? Quanti abitanti hai in questa città? Vogliamo andare in quel posto? Nosotros queremos ir a ese lugar È stato un incontro molto piacevole Fui un incontro molto piacevole Hai studiato la mia proposta? Studiaste la mia proposta? Ho bisogno di andare a casa Necesito andare a casa Pagherò la cena Io pagaré per la cena Guidati con il tuo intuito Guiate per la tua intuizione Ognuno è nella sezione corrispondente Cada uno sta in la sezione corrispondente Te l'ho comprato in pasticceria Te compré esto in la panaderia In quale università hai studiato? In che università studiaste? Ci sono molte persone qui Hai molte persone qui La mia famiglia è la mia ispirazione Mi famiglia è la mia ispirazione Andiamo in bicicletta? Vamos a montare in bicicletta? Voglio viaggiare a Londra Sono felice di vivere in questa città Estoy felice vivendo in questa città Ho bisogno di un biglietto di ritorno Necesito un biglietto di ritorno Sembri tua madre Te pareces a tu madre Siete tutti d'accordo? Estan todos de acuerdo? È una grande mostra È un'exposizione grandiosa Vado sempre a dormire tardi Siempre me duermo tardi Chi potrebbe aiutarmi con questo rapporto? Chi potrebbe aiutarmi con questo informe? Hai bisogno di riposare Necesitas descansare Non ne sono sicuro No estoy seguro Questa è una grande canzone Esa è una gran canzone Esco dal lavoro alle sei Salgo del lavoro alle sei Questo è molto importante Questo è molto importante Che vestito indosserai oggi? Che vestito te vas a poner hoy? Hai parlato con mia madre? Hablaste con mi mamà? Non cambierò idea Non cambiare di opinione Hai una famiglia molto bella Tienes una famiglia muy hermosa Tutte le tue cose sono qui Todas tus cosas están aquí Lei è molto divertente Ella è molto divertida Sono al secondo piano Io sto in il secondo piso Ti piace la pallavolo? Te gusta il voleibol? Sto pulendo la mia stanza Sto limpiando mi quarto Tutte le tue cose sono qui Todas tus cosas están aquí Hai visitato il museo? Visitaste il museo? Oggi voglio restare a casa Oggi voglio restare a casa Ti piacerebbe provarlo? Ti piacerebbe provarlo? Dimmi se hai bisogno di aiuto Dimmi se hai bisogno di aiuto Dime se necessitas ayuda Sono molto impegnati Tutto è stato un disastro 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 Vive qui vicino Il vive cerca di qui Ne è valsa la pena? Valiò la pena il esforzo Vorrei fare una passeggiata Mi gustaría dare un passeo Grazie di tutto Grazie per tutto Mia zia è molto educata Mi tia è molto educata Il pollo è in frigorifero Il pollo sta nel refrigerador È un'opinione molto personale È una opinione molto personale Cosa fai domani? Che vas a hacer magnana? Ci vediamo stasera Te veo esta noche Penso che accetterò quella proposta Creo che aceptaré esa propuesta L'insegnante spiega molto bene La professora explica muy bien All'improvviso iniziarono a piangere De repente cominciarono a llorar Stai attento alla guida Ten cuidado conduciendo Mi porti a questo indirizzo, per favore Llevami a questa direzione, per favore Vive con i suoi genitori Ella vive con sus padres Dove è tua madre? Donde sta tua madre? Andiamo per le scale Vamos por las escaleras Cosa stai comprando? Che stas comprando? La prossima volta rimarrò più a lungo La prossima vez me quedaré más tiempo Spero ti sia piaciuta la mia raccomandazione Spero che ti haya gustado mi recomendación È un diamante prezioso È un diamante prezioso Non c'è motivo di dubitarne No hay ningún motivo para dudarlo È un commento molto interessante È un commentario muy interesante Hai preparato il caffè? Preparaste il caffè? Sei andato a teatro? Fuiste al teatro? Il progetto non è andato come previsto Il progetto non è andato come previsto È arrivata al colloquio in orario Ella vino alla entrevista puntualmente Chi c'era alla festa? Non so ancora quale decisione prendere Aún no sé che decision tomar Tutto funziona correttamente Tutto funziona correttamente Mi sbaglio, chiedo scusa Estoy equivocado, me disculpo Fammi sapere se decidi di andare al club Avísame si te decides a ir al club Accetto le tue scuse Acepto tus disculpas Iniziamo tra pochi minuti Iniziamo en unos minutos Stasera vinceremo Esta noche ganaremos Cuciniamo insieme stasera Cocinamos juntos esta noche Hai delle mele Tienes manzanas? Ci trasferiremo in un nuovo appartamento Indosserò le mie scarpe nuove per la prima volta Estrenaré los zapatos nuevos È mio dovere accompagnarvi Es mi deber accompagnarte Sa guidare? Puedes conducir tu? Aiutatemi con la registrazione Dobbiamo accettare questo punto Debemos accettare questo punto Ora voglio andare a letto Ci vediamo domani Ya me quiero acostar Hasta mañana Sei innamorato di lei? Tu estás enamorado de ella? Ho chiuso con il progetto Ya he terminado con el progetto Devo perfezionare il mio portoghese Necesito perfezionarmi portugués Voglio cantare questa canzone con te Quiero cantar contigo esta canzone Amo trascorrere il tempo con i miei figli Me encanta compartir tiempo con mis hijos Non continuare a difendere il tuo amico No sigas defendiendo a tua amiga Mia zia mi ha svegliato con quel urlo Mi tia me despertò con ese grito Attraversare la strada con attenzione Cruza la calle con cuidado Non posso, sto giocando con i bambini Non posso, sto giocando con i bambini Non posso, sto giocando con i bambini Voglio creare nuove entrate passive Quiero creare nuovi ingressi passivi Devo decidere in fretta Devo decidere rapidamente L'azienda è in rapida crescita La impresa sta crescendo rapidamente Avete visto la partita di calcio? Viste il partito di fútbol? Voglio viaggiare per visitare la mia famiglia Quiero viajar a visitare la mia famiglia Cambiare mentalità Cambia tu mentalità Hai visto quel serpente? Viste esa serpiente? Possiamo servire ora? Podemos servir già? Siete orgogliosi di voi stessi? Estàs orgulloso de ti mismo? Le ordino un hamburger? Pido hamburguesa para ti? Raccomando questo posto Te recomiendo este lugar Ha molti amici Tienes muchos amigos? È un'ottima opportunità per voi È un'ottima opportunità per voi È un'eccellente opportunità per ti Sei una persona popolare? Eres una persona muy popolare Arrampicarsi con attenzione Sube con cuidado Siete molto produttivi Eres muy productivo Sono appena arrivato qui Justo acabo de llegar È qualcosa di più ragionevole È qualcosa di più ragionevole È qualcosa di più ragionevole Qual è il suo programma televisivo preferito? Qual è il suo programma televisivo preferito? Qual è il tuo programma di televisione favorito? Qual è il suo miglior risultato ad oggi? Qual è il tuo miglior risultato ad oggi? Le piace cantare? Te gusta cantare? Qual è il gusto preferite? Che sabor prefieres? Quale orologio ha acquistato? Che relof te compraste? Quanti colleghi vengono oggi? Quantos compagneros vienen oggi? Quali strade abbiamo percorso? Quali senderos hemos recorrido? Stasera vedrò di nuovo la fine Volveré a ver il final esta noche Ci fermiamo alla prossima stazione? Paramos en la prossima stazione? Quale ingresso è stato forzato? Quale entrata fu forzata? Qual è la soluzione giusta? Qual soluzione è la corretta? Quali opzioni offrono? Che opzioni offreste? Qual è la sua più grande paura? Qual è la sua più grande paura? Dimenticate quello che vi ho detto ieri Olvida lo che ti dice ayer Che tipo di musica le piace? Che tipo di musica te gusta? I miei occhiali sono molto costosi Mis gafas son muy costosas Il furgone era bianco La camionetta era blanca Avete già preparato la colazione? Ya preparaste il desayuno? Vuoi dirmi la verità? Quieres decirme la verità? Andiamo alla nursery? Vamos al vivero? Avete somministrato il farmaco al vostro cane? Ya le diste il medicamento a tu perro Preparerò un buon pasto Prepararé una rica comida Abbiamo trascorso una bella vacanza Hemos disfrutato de unas hermosas vacaciones Sono insegnanti eccellenti Ellos son eccellentes docentes È un bravo ragazzo È un niño bueno Il mio vicino è molto gentile Mi vecino è molto amabile Ha terminato la gara exausta Ella finalizzò la competizione exausta Ho sistemato il vecchio vestito di mia zia He arreglato il vestito viejo di mia zia I suoi occhi marroni Los ojos marrones di ella Casa dolce casa Ogar, dulce hogar La camicia blu è sporca La camisa azul sta sucia Il portafoglio strappato che non uso più La billetera rota ya non la uso più La folla entusiasta continuava a battere le mani La gente entusiasmata non deixava di applaudir Il cantante era felice La cantante estaba felice L'insegnante di matematica ci ha dato molti compiti difficili La tazza calda si è rovesciata sul tavolo La tazza caliente se derramò sobre la mesa Andate a riposare nella saletta Ve e descansa in la habitazione pequeña La cassapanca antica che ho fatto restaurare Il cofre antiguo lo inviei a restaurare I pantaloncini sono nella tua stanza La pillola arancione che ho preso quattro ore fa La pildora naranja la tomé hace quattro horas I piccioni bianchi appollaiati sul soffitto Las palomas blancas se posaron sobre il techo La balena blu è molto bella La ballena azul è molto bella Gli uccelli canori volavano impauriti Los pájaros cantores volaron asostati L'aereo volava nel cielo Il avion cruzò il cielo Portami la camicia bianca La calda primavera non era ancora arrivata La primavera cálida aún non arrivava La grande scatola di Natale si è smarrita La enorme caja di Navidad se extraviò Berrò una bibita dolce Voy a beber un refresco dolce Oggi il simpatico vicino mi ha sorriso La vecina simpática me sonrió hoy Ieri ho dormito con i capelli bagnati Ayer dormì con il cabello umido Il mio nipotino sta imparando a camminare Mi sobrino pequeño sta apprendiendo a camminare I ragazzi intelligenti non sono andati oggi Il nastro blu è il nastro del vincitore La cinta azul è la del vencedor L'abito nero è il più bello di tutti Il vestito negro è il più bello di tutti L'operaio ha lavorato instancabilmente oggi Il obrero lavorò sin descanso oggi Il magico profumo del gelsomino è il mio preferito Il perfume magico del jazmine è il mio preferito Abbiamo avuto una festa fantastica Le dieti più efficaci sono quelle che contengono insalate a foglia verde Las dieti più efficaci sono quelle che contengono insalate a foglia verde Paolo è uno studente eccellente Paolo è un studente eccellente Il mio film preferito è A Brilliant Mind Mi pellicola favorita è Una mente brillante Perché non indossi le tue scarpe nuove? Perché non ti pones los sapatos nuovi? Abito all'ultimo piano della torre più alta Vivo nel ultimo piso della torre più alta Il cotone è molto morbido Il algodone è molto suave L'auto è piccola L'automobile è piccola Le spese sono troppo costose Non sarà possibile bere dai vetri rotti Non potrai bere dal vaso roto Questo letto è molto comodo Questa cama è molto comoda La fata magica ha vestito cenerentola Il hada magica vestito a cenicienta La perla è molto lucida La perla è molto brillante La piscina era pulita La piscina stava limpia L'erba verde Il verde césped Questa notte buia Improvvisamente un lampo luminoso De repente un luminoso relampago Un huracano destruttivo Un huracan destructivo Circondati dalla neve bianca Rodeados di blanca nieve Lo spagnolo non è facile ma mi piace Quelle lanterne luminose Esos luminosos faroles Vi è piaciuta la mia preparazione? Te gustò mi preparazione? Hai ascoltato l'audio che ti ho inviato? Escuchaste l'audio che ti ho inviato? Assomiglia a tuo padre? Te pareces a tuo padre? Sono ancora a capo dell'azienda Aún sigo al frente della empresa Hai dimenticato di ritirare i prodotti? Olvidaste recoger los prodotti? Andiamo avanti Sigamos adelante Studierò all'università Voy a studiar en la università Suggerisco una pausa Te sugiero un descanso I miei figli vogliono andare al cinema Mis hijos quieren ir al cine Vi piace il vostro nuovo quartiere? Te gusta tu nuovo barrio? Immergere la testa nell'acqua Sumerge tu cabeza en el agua Come lo sai? Cómo lo sabes? Cosa comprende questo servizio? Che incluye ese servizio? Le scatole sono vuote Las cajas están vacías Ho vissuto in quella casa Torno nel mio paese Per qualche mese Volveré a mi paese Por unos meses So che potete Io sé che tu puedes Questo è un dipinto autentico Este è un quadro autentico Voglio imparare a cucinare Quiero apprendere a cucinare Ricordate La comunicazione attiva Recuerda Comunicazione assertiva Voglio cambiare Alcune abitudini Quiero cambiare Algunos hábitos Domani ho un colloquio di lavoro Mañana tengo Una entrevista La prossima settimana Viajeremo La prossima settimana Viajaremos Non sono sicuro Che sia vero No estoy seguro De che sia certo Sono felice Di rivederti Estoy felice Di verte Di nuovo La caffetteria È già chiusa La caffetteria Ya è stata Cerrada Sono confuso Con questa faccenda Estoy confundito Con este asunto Cosa fai? Che stas Haciendo? Voglio andare A dormire adesso Dov'è la toilette? Donde sta il bagno? Andiamo a mangiare la pizza Vamos a comer pizza Hai scoperto cosa è successo? Te has enterato De lo sucedido? Lei è molto gentile Eres muy amable La mia città natale È Madrid Mi ciudad natale È Madrid Hanno detto Che verranno oggi Ellos dijeron Che vendranno oggi Vogliono aiutarti Cosa stai leggendo Attualmente? Che stas Legyendo Attualmente? Devo migliorare Le mie finanze Personali Devo migliorare Mis finanzas Personalis Viaggeremo Per due settimane Viajaremos Durante Dos semanas Cosa stiamo per mangiare? Che vamos a comer? Quanti fratelli hai? Quantos hermanos tienes? Questi sono i dati di cui hai bisogno Estos son los datos que necesitas Vuoi bere qualcosa? Chieres beber algo? Mi sto innamorando di te Mi sto innamorando di ti Sulla scrivania ci sono i documenti En il scrittorio Estan los documentos Spero ti piaccia questa città Espero che disfrutes De esta città È inutile Continuare a insistere È inutile Seguire insistiendo Hai fatto la cosa giusta Hiciste lo corretto È una storia molto divertente È una storia molto divertente L'auto è in officina El auto está en el taller Cosa hai fatto oggi? Che hiciste hoy? Mi piacerebbe vivere a Londra Mi gustaría vivere a Londres Devo finire questo domani Mañana devo terminare esto Voglio comprare questo vestito Quiero comprare este vestito Sei una persona molto generosa Eres una persona muy generosa Come sarebbe il tuo partner ideale? Come sería tu pareja ideal? Questo è molto importante per me Questo è molto importante per me Grazie per l'aiuto Grazie per la tua aiuta È un quartiere pericoloso? Este è un barrio peligroso? Non preoccuparti Ho bisogno del vostro aiuto Necesito tua aiuta Quali sono stati gli errori commessi? Quali sono i errori commessi? È una cultura molto interessante È una cultura molto interessante È un uomo d'affari molto famoso È un empresario molto famoso Tutto è risolto Tutto è risolto Sto contemplando questa possibilità Sto contemplando questa possibilità Come si chiama il tuo gatto? Come si chiama il tuo gatto? Dovremmo parlare con i tuoi genitori Devemmo parlare con i tuoi genitori Preferisco andare in questo modo Io preferisco seguire per questo cammino È un posto tranquillo È un luogo tranquillo Voglio sapere qualcosa in più Siamo sulla cultura egiziana Quiero conoscere un poco Mà della cultura egizia Non sei soddisfatto di niente Non sei soddisfatto di niente Estamos satisfechos con los resultados. Voglio un'insalata per pranzo. Quiero insalata per l'almuerzo. L'edificio è nuovo. Il edificio è nuovo. Ogni giorno bevo caffè al mattino. Todos gli giorni tomo caffè in la mattina. Hai ancora i biglietti per oggi? Alcune persone famose vivono qui. Algunos famosos viven qui. I miei genitori stanno arrivando. Mis padres vienen en camino. Vuoi parlare? Chieres hablar? È un problema per tutti. È un problema per tutti. Lei è molto efficiente. Ella è molto efficiente. Oggi è il centenario della città. Oggi è il centenario della città. Vivo in Germania. Io vivo in Alemania. Qual è il tuo segno zodiacale? Qual è il tuo signo zodiacale? Qui vive mio cugino. Qui vive mi prima. Hai già preso la decisione? La mia figlia è venuta a trovarmi. La mia figlia è venuta a trovarmi. La mia figlia è venuta a visitarmi. Preferirei capirlo da solo. Preferirei risolverlo solo. Sono libero questo fine settimana. Estoy libero questo fine settimana. Ti piacerebbe provarlo? Ti piacerebbe provarlo? Chi ha esaminato i documenti? Chi ha esaminato i documenti? Questa scuola è molto popolare. Questo frigorifero si sta rompendo. Este refrigerador si sta averiando. La mia salute sta migliorando. Mi salute sta migliorando. Adoro camminare nei boschi. Me encanta camminare nel boschi. Cosa stai pensando? Cosa stai pensando? Non ho molto tempo. Non ho molto tempo. Devo andare dal dentista. Necesito andare dal dentista. Spero di vederti presto. Espero verte pronto. Voglio il meglio per te. Quiero lo meglio per te. L'estate scorsa sono stato a Parigi. Il verano passato estuve in Parigi. Lui è un ingegnere. Él es un ingegnero. Mi sento fortunato a vederti. Me siento fortunato de verte. Mi sento male. Me siento enfermo. Per fortuna sono arrivati molto bene. Por sorte llegaron muy bien. Pensano in modo molto diverso. Ellos opinan muy diferente. È stato un momento sfortunato. Fui un momento desafortunato. Proviamo a capirlo oggi. Tratemos de resolverlo oggi. Attualmente vivo da solo. Actualmente sto vivendo solo. Qual è la soluzione corretta? Qual è la soluzione corretta? Il pesce è delizioso. Il pesce è delizioso. Sto scrivendo il mio discorso. Sto scrivendo il mio discorso. Si ha offerta di aiutarci. Ella si ofreciò a aiutarnos. Non posso continuare a parlarti. No puedo seguir hablando contigo. Cosa hai scritto a tuo padre? Che le scriviste a tuo padre? Lei sa come giocare a basket. Ella sabe jugar baloncesto. Possiamo fare le patatine fritte. Podemos hacer papas fritas. Quanto grande è casa tua? Che tan grande es tu casa? Cosa stai comprando? Che estás comprando? Ti piacciono i film dell'orrore? Ti piacciono i filmi di terror? Goditi la città. Disfruta della città. Vuoi qualcosa di diverso? Chierai qualcosa di diverso? Voglio un altro caffè. Quiero un altro caffè. Quello cibo è delizioso. Esa comida è deliciosa. Posso giocare con te? Puedo giocare con te? È una buona occasione per tutti. È una buona opportunità per tutti. Il ketchup è finito. Se acabò la salsa di tomate. È un team molto creativo. È un equipo molto creativo. La festa è stasera? La fiesta è sesta noce? Ho appena trovato il numero giusto. Acabo di incontrare il numero indicato. Questo regalo è per te. Este regalo è per te. Cucini domani? Mañana cocinas tu? Defendono il loro punto di vista. Ellos defienden il suo punto di vista. Penso che sia stata una buona decisione. Credo che ha sido una buona decisione. Mi porti un caffè? Puedes traermi un caffè? Il mio capo si è licenziato ieri. Mi jefe rinunciò ayer. Voglio cucinare stasera. Quiero cucinar stasera. E tuoi figli sono piccoli? Tui figli sono piccoli? Con chi sei? Con chi sei? Lei è la mia amica di infanzia. Ella è mia amica di infanzia. Le foto erano fantastiche. Las fotos estuvieron geniali. Ho appena letto i tuoi messaggi. Acabo di leggere i tuoi messaggi. Sto praticando yoga. Sto praticando yoga. E' una notte magica. E' una notte magica. Hai animali domestici? C'è una notte magica. C'è una notte magica? Devo comprare delle scarpe da corsa. Devo comprare unos tenis per correre. Hai trovato la strada? Hai incontrato il cammino? Hai già deciso? Capisco cosa stai dicendo. Entiendo lo che dices. Guardiamo insieme il film. Veamos la pelicula juntos. Lei sta bene? Ella sta bene? Ti meriti questo riconoscimento. Te mereces este riconoscimento. Andiamo al supermercato? Vamos al supermercato? E' una buona possibilità. Es una buona possibilità. La casa è molto pulita. La casa sta muy limpia. Siamo nel posto giusto. Estamos en el lugar correcto. Impossibile non pensare a lei. E' impossibile non pensare a lei. Facciamo colazione ora? Vamos a desayunare già? Sono in vacanza. Estoy de vacaciones. Voglio avere la mia attività. Quiero tener mi proprio negocio. Com'è stata la tua esperienza? Com'è stata la tua esperienza? Ieri mi sono fatto questo tatuaggio. Ayer mi hice este tatuaggio. Mi piace leggere. Mi gusta la lectura. Non posso dirti la verità. No puedo decirle la verdad. Qual è il nome del tuo cane? Como se llama tu perro? I bambini sono stati molto educati. Los niños fueron muy educados. Posso chiamarti ora? Puedo chiamarti già? Voglio rivedere i miei genitori. Quiero volver a ver a mis padres. Oggi è un giorno speciale per me. Oggi è un giorno speciale per me. Oggi è un giorno speciale per me.